Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare l'incarico in arrivo che vi chiede di aprire tre casseforti. Potete farlo in tre partite diverse in qualsiasi modalità. Io adesso sono in rissa squadre. Se venite qua, quasi sempre c'è la cassaforte. Ovviamente è una questione di fortuna, non è che diciamo al 100% venite spesso qui e la trovate sempre. Però ci sono buone probabilità che compaia qui. Mi trovo praticamente a scogliere scoscese qui sulla soffitta. Quindi voi una volta che siete arrivati al ristorante di pesce secco, qui, salite le scale, salite su, aprite questa porta, salite queste scale e qui troverete la cassaforte. Quindi magari ripetete questa operazione più volte fino a completare l'incarico.